Con un sì unanime il Consiglio regionale modifica la legge 51 del dicembre scorso sui rimborsi alle famiglie dopo gli eventi alluvionali in Toscana del mese di novembre. In pratica si allarga la platea per richiesta danni, la normativa prevede adesso fino a un massimo di 3.000 euro a sostegno dei nuclei familiari che hanno subito danni per il ripristino o la sostituzione anche di beni mobili. Ad illustrare il provvedimento la Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Buggetti. L'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni mobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente ma che è già qualcosa di importante. Affianco a questo i 12 milioni per le imprese dove la Regione si fa carico di tutta la parte struttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA che stanno seguendo le domande. Come detto l'atto passa con 32 voti favorevoli, nessun contrario o astenuto. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini allargando il platon dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possono essere erogate. Voto favorevole perché allarghiamo la platea di coloro che possono accedere ai ristori quindi non soltanto chi ha subito danni all'abitazione principale ma anche chi l'ha subita alle pertinenze, ai garage, alle auto, alle moto, ai giardini che ovviamente sono persone che hanno subito danni al pari degli altri, sicuramente più grave chi l'ha subita l'abitazione principale ma se una famiglia abitava al primo piano di una palazzina alluvionata, non ha subito danni in casa ma ha perso tutto quello che aveva in garage, magari ha perso due automobili e una moto credo sia doveroso ristorare anche loro. Quindi un voto favorevole nella speranza però che questi ristori possono essere erogati quanto prima. Nel centro-destra la Lega però chiede un ulteriore approfondimento Gli uffici ci hanno fatto capire e aspettiamo il report definitivo che in verità molte famiglie hanno provato facendo domanda sia per beni immobili e per beni immobili quindi le famiglie coinvolte saranno circa 7.500 in tutto il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti e le risposte sono in primis che sicuramente la compilazione delle domande quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento è un iter che ancora oggi è complicato e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare più possibile la richiesta di risarcimento anche con i fondi che ulteriormente la regione metterà a disposizione e con i fondi del governo. Il secondo punto è quello di smetterla di dire che il governo centrale non manderà risorse che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini Ma il tema dei finanziamenti nazionali è cruciale ribatte la Presidente della Commissione Sviluppo Economico E questo è il grande punto interrogativo perché oltre alla data se eventualmente ci sarà una proroga c'è attesa dei soldi che arriveranno da Roma questo è fondamentale perché come dicevo noi diamo un piccolo contributo per alleviare ma i soldi importanti per i danni ricevuti devono arrivare da Roma noi siamo stati e abbiamo cercato di fare la nostra parte in maniera anche veloce e di questo ringrazio sia il Presidente Gianni come Commissario che l'Assessore Ammoni e l'Assessore Marras e ovviamente tutta la protezione civile che sia adoperata però se non arrivano le risorse da Roma manca un pezzo importante di risarcimento a queste persone A maggioranza il Consiglio regionale approva una proposta di legge al Parlamento per l'introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica la proposta arriva su iniziativa della Commissione Cultura è un modo diretto per sollecitare una discussione in Parlamento spiega la Presidente Cristina Giacchi dove sono fermi almeno tre o quattro disegni di legge sul tema Una modifica molto semplice e pragmatica della legge 92 che istituisce l'ora di educazione civica che nel disegno originario di molti che hanno fatto proposte di legge si chiamava educazione alla cittadinanza ecco di inserire tra gli argomenti di quell'ora di lezione anche questi temi, i temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità è chiaro che non è abbastanza perché quello che sarebbe necessario è che ci fosse un vero percorso formativo con esperti, psicologi, persone in grado di guidare i ragazzi in percorsi di approccio a questi temi ma intanto se si cominciasse a lasciarli parlare di questi argomenti potremmo consentire a tante magari idee distorte di affiorare non mi ha sorpreso ma mi ha un po' preoccupato il tono specioso ed eccessivamente sulla difensiva delle opposizioni che hanno chiaramente ostacolato la legge e non l'hanno votato contro appellandosi a ragioni che fanno pensare a un tabù sociale ecco tutto quello che sta nel tabù, che sta nel non detto non è che i ragazzi non lo frequentano lo frequentano da soli, si informano da soli su internet dove trovano notizie io credo che sia meglio consentire loro di raffrontarsi con adulti educanti presenti che possano magari leggere i segnali di un convincimento sbagliato di una mente fragile che si sta facendo delle idee pericolose fortemente contrarie e in aula in espresso voto negativo si sono dette le opposizioni di centro-destra diciamo partiamo dal presupposto che la scuola dovrebbe educare dovrebbe educare a tutto tondo quindi dovrebbe anche sensibilizzare i ragazzi rispetto a temi importanti quali la diversità e la lotta alle violenze questa legge entra a gamba tesa invece dal nostro punto di vista su una sfera che è una sfera che ricade per lo più in quelle che sono anche l'ambito familiare io rivendico come genitore la mia libertà di educare mio figlio nel modo che ritengo opportuno sensibilizzarlo al rispetto di quelli che sono principi e diritti fondamentali della persona rifiuto che questo possa farlo la scuola intanto perché è una proposta che va a modificare una legge del 2019 che ha introdotto l'educazione civica in tutte le nostre scuole poi si pensava che sarebbe stato opportuno fare un tavolo anche regionale con le istituzioni scolastiche l'USR, la regione, le associazioni che si occupano di queste problematiche per arrivare, e gli esperti ovviamente perché occorrono gli esperti vista la materia così delicata che tratta questa proposta di legge da questo tavolo potevano uscire delle proposte da portare in alcune scuole e vedere poi che cosa succedeva e poi farne una proposta di legge poi noi della Lega siamo d'accordo con quanto ha fatto il ministro dell'istruzione che ha proposto l'educazione al rispetto dell'altro perché il rispetto dell'altro è alla base di tutto se noi seguiamo le regole e rispettiamo tutti nelle loro diversità sia culturali, fisiche, religiose, di tutti i tipi, le cose possono andare meglio ora in questo momento presi da quanto è successo ultimamente a Palermo e in varie altre parti d'Italia c'è stata questa spinta a parlarne un po' di più per il discorso della violenza contro le donne però non dobbiamo aver fretta proprio perché come vi ho detto la materia è molto delicata Sì, da Italia Viva il capogruppo ricorda la mozione presentata in tema due anni fa Chi andava in questa direzione è evidente che la crescita di una persona avviene sotto il punto di vista anche umano, relazionale e soprattutto affettivo e come tale è bene che la scuola sia il luogo dove si affronta e dove ci si confronta rispetto alla crescita emozionale, affettiva, anche sessuale e soprattutto dove i ragazzi e le ragazze possano confrontarsi con personale competente nella conoscenza, dalla conoscenza nasce l'approfondimento di temi molto importanti Sì, anche dal Movimento 5 Stelle che critica le posizioni del centro-destra oscurantiste Perché è stato evidente che da parte del centro-destra c'è una concezione dell'affettività delle relazioni, veramente, non saprei nemmeno come definirla assolutamente non moderna e non ho capito assolutamente le loro motivazioni di contrarietà Io ricordo che ieri sera abbiamo avuto la notizia di un ulteriore femminicidio sono state uccise altre due donne e c'è una cadenza giornaliera di questo fenomeno veramente impressionante, siamo di fronte a un'emergenza nazionale e tutti dovremmo essere trasversalmente uniti nel cercare di trovare i mezzi per contrastarla Sono d'accordo che il centro-destra ha fatto questo importante stanziamento di 15 milioni di euro va benissimo, non sono certo contraria, mi fa piacere ma non capisco la loro contrarietà a insegnare l'educazione sessuale e l'affettività nelle scuole Una collaborazione non solo con il nostro ente, con la nostra provincia ma con UBI Toscana di cui sono presidente Marco Meacci, presidente di Corecom, penso che abbia fatto una ottima cosa quella di rilanciare quella che è la conoscenza dei territori e quindi attraverso le province che sono la casa dei comuni e invitando tutti quelli che sono i soggetti interessati dei territori a prendere visione e conoscenza di cosa ci occupa il Corecom Fa tappa a massa il Corecom Tour, il giro tra le province della Toscana del Comitato Regionale delle Comunicazioni Nella serie di Palazzo Ducale i membri del Comitato hanno incontrato cittadini e istituzioni E vogliamo far conoscere a cittadini, istituzioni, imprese, scuole e associazioni quelle che sono le funzioni principali di Corecom un organismo non sempre pienamente conosciuto Dalla sorveglianza sulla produzione radio televisiva fino ai progetti come il patentino digitale Rivolto alle scuole medie della Toscana che serve proprio per dare le basi per navigare in modo consapevole e sicuro ai ragazzi delle scuole Ma negli ultimi anni grande rilevanza ha avuto il ruolo di ente di conciliazione nelle controversie tra cittadini e compagnie telefoniche Quando un cittadino, un'impresa ha dei problemi sulle controversie telefoniche il Corecom gratuitamente, sono alcune migliaia di stanze che vengono esaminate ogni anno svolge questa funzione gratuita Lo dimostrano anche le cifre dei rimborsi ottenuti Il ritorno economico in termini assoluti che torna nelle tasche dei cittadini è molto elevato se si considerano tutte quelle conciliazioni che vanno a buon vino con anche le definizioni diciamo di qualche milione di euro che torna in tasca nelle famiglie toscane All'incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani Il Corecom è una grande opportunità e credo che iniziative come quella di stamani possano essere l'occasione giusta affinché questa struttura possa essere resa nota a tutti i cittadini i quali sanno in questo modo di essere maggiormente tutelati Un'occasione anche per ribadire le funzioni fondamentali che il Corecom esercita anche in termini di controllo sulla comunicazione a livello regionale Da presidente della prima commissione che per diversi anni ha avuto presso di sé l'attività del Corecom non posso che esprimere soddisfazione per il crescente impegno che questo organo ha assunto e anche per la sempre maggiore visibilità che sta assumendo in tutto il territorio toscano È toccato a Firenze ospitare l'assemblea plenaria della conferenza delle regioni e delle province autonome italiane in primo piano il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro Non si può più morire andando al lavoro Il lavoro è dignità e noi abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte Mi è stato chiesto la responsabilità di coordinare questo lavoro Lo farò insieme a tutti gli altri presidenti C'è già una proposta concreta che parte da Firenze? Io ho proposto a tutte le assemblee legislative ma voglio confrontarmi con i presidenti di sottoscrivere la carta di Firenze È un modo con cui noi abbiamo deciso di gestire gli appalti pubblici con maggiori controlli, con più formazione Ecco dovremmo provare a farlo tutti ma questo è un pezzettino del lavoro da andare a fare nei prossimi mesi Servono più risorse investite sulla parte della formazione Noi abbiamo bisogno di personale consapevole di sapere i rischi sul luogo del lavoro Insomma è un lavoro intenso, impegnativo che ognuno di noi si sente sulle proprie spalle Quali sono gli altri temi che i consigli regionali portano all'attenzione del governo? Ci confronteremo su tutti i cambiamenti istituzionali che il governo propone Lo faremo pensando ai ruoli del consigli regionali Provando a chiedere che si riallinino le finestre elettorali Perché per partecipare se vogliamo ci sia più democrazia dobbiamo cercare anche di accorpare e di tenere insieme Insomma sarà un lavoro pensando sempre ai cittadini e ponendoli al centro di tutto il nostro dibattito E sono felice che tutto questo sia avvenuto oggi qui a Firenze in Toscana L'Assemblea di Firenze ha visto anche rinnovati i vertici A guidare l'Assemblea d'ora in poi sarà Antonello Aurigemma Presidente del Consiglio regionale del Lazio Sicuramente le assemblee legislative dei consigli regionali sono dei luoghi importanti, luogo dove si legifera ma soprattutto dove ogni consigliere regionale rappresenta un pezzo del territorio della propria regione e quindi viene rappresentato tutto il territorio nazionale È un luogo importante perché è il luogo di ascolto, è il luogo di confronto, è il luogo di discussione ma soprattutto è il luogo di sintesi Quella sintesi fondamentale per il bene comune, per l'interesse comune dei cittadini del proprio territorio Subentra dopo tre anni a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale Veneto Tre anni intensi, tre anni che hanno visto tutte le regioni collaborare per rafforzare il regionalismo italiano L'abbiamo fatto in varie occasioni, anche in confronti con Camera e Senato anche con interlocuzioni direttamente con il Presidente della Repubblica quindi veramente un lavoro intenso e poi ognuno dei colleghi per le proprie competenze e sensibilità per storia professionale o anche appunto istituzionale si è occupato di temi specifici dall'anticorruzione all'antimafia ai garanti dei diritti all'agicom quindi molte cose di competenza dei consigli regionali e poi anche un coordinamento di attività legislative che ha visto veramente lavorare le assemblee legislative in maniera assolutamente corale e poi anche un po' di attività